Oggi, nell'Aulamagna di giurisprudenza presso l'Ecotecne di Lecce, si è svolto un importante incontro formativo dal titolo Il Contrasto al Racket e all'Usura, un seminario per discutere su normative e nuove iniziative, nato dall'impegno di Alfredo Fortunato, consigliere di facoltà e membro di Un Insieme, che ha raggruppato importanti personalità impegnate nella lotta alla mafia. Tra i relatori, Santi Giuffré, prefetto, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, Antonio De Donno, procuratore aggiunto della Repubblica di Lecce, Giorgio Mantovano, dottore commercialista, Valerio Perrone, coordinatore regionale SOS Impresa Rete della Legalità e il prefetto di Lecce Claudio Palomba. Racket e Usura, due mali della società, non solo per la loro diffusione capillare sul territorio, ma anche per il fatto che troppo spesso questi reati non vengono denunciati, un po' per vergogna, ma troppo spesso per paura. A questo servono le numerose campagne di sensibilizzazione, nazionali e non, per dare coraggio alle vittime di questi fenomeni, per aiutarle a uscire allo scoperto, senza timore di estorsioni. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di approfondimento e confronto circa aspetti normativi, misure di contrasto e prevenzione, azioni a supporto delle vittime. Il settore delle associazioni anti-racket e anti-usura, rappresentato non solo dalle realtà locali, ma anche da quelle attive in altre province pugliesi, ha sottolineato la necessità di interventi normativi per favorire il sostegno degli imprenditori che sfidano i malavitosi apertamente, denunciando i soprusi, attraverso la possibilità di costituire fondi da destinare a iniziative utili a far fronte alle loro necessità immediate. Il seminario è nato da un'idea, noi innanzitutto, che abbiamo di università, ovvero un'università che non sia chiusa, un'università che basi la formazione dello studente, la didattica, in maniera dinamica, usi una didattica dinamica per formare lo studente, in modo tale da far interagire sia la componente studentesca dell'università, ma proprio tutta l'università con le istituzioni che operano sul territorio e si approcciano al territorio e tutte le figure, gli esponenti di spicco come il commissario di governo che abbiamo oggi, che direttamente combatte e si approccia a questo fenomeno. Io mi sento di rinnovare i complimenti ad Alfredo perché ha dato vita ad un'iniziativa di un'importantissima caratura e di rilevanza sociale. Questo perché la mafia è un fenomeno anche culturale, la cultura mafiosa può essere sconfitta tramite soprattutto due strumenti che sono la consapevolezza e la coscienza. E chi uscirà da quest'aula avrà la consapevolezza di non essere solo nella lotta alla mafia, ma che c'è un esercito di persone che ogni giorno combatte questo triste fenomeno e sarà anche più conscio di tutto il male che arreca la mafia alla nostra società. Quindi sconfiggere la mafia si può e si può fare anche attraverso queste piccole e grandi iniziative che danno impulso e entusiasmo a tutti coloro che combattono la mafia.